Mi chiamo Vincenzo Attieri, sono un medico, sono specializzato in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sono odontostomatologo, ma sono appassionato anche di dentosofie e di antroposofie. Ho scelto di iscrivermi su Rigenera Life perché ho parlato a lungo con la titolare di Rigenera Life e mi ha incuriosito la passione con la quale parlava di questo suo progetto. Quello che mi ha colpito di più è la molteplicità degli operatori, delle persone che parlano attraverso questo che per me è un luogo, anche se è un luogo in un telefono, in un monitor, per me è diventato un luogo, un luogo dove si raccolgono tante teste che pensano cose incredibili. Il servizio che mi è piaciuto di più di Rigenera Life è il mercoledì, il mercoledì sera quando c'è un bel discorsetto che viene fatto da persone che mi hanno illuminato su cose le più disparate e hanno stimolato in me il desiderio di ricercare ancora. Non si arriva mai, non si arriva mai. Mi è piaciuto molto sapere che tantissime persone avevano visto la mia intervista e avevano fatto domande ed erano rimaste interessate. E poi comunque dopo un pochino, non subito, qualcuno ha cominciato a chiamare e le persone che venivano da me dopo aver visto Rigenera Life parlavano la mia stessa lingua. Questa è una cosa che mi ha colpito di più. Io trattando antroposofia, dentosofia, ma faccio anche prodotto di chiedria ufficiale e a volte ho difficoltà nel comunicare alcune cose a persone che sono al di fuori degli argomenti che io tratto, però mi piace coinvolgerli. Invece le persone che mi chiamano da Rigenera Life parlano da subito la mia stessa lingua e mi chiedono cose precise. E' facilissimo per me comunicare con loro e vedo che loro cercano persone che non abbiano le risposte che sono le più diffuse ma che abbiano qualche modo diverso per arrivare a curare meglio le persone. Tanti portali avevo visto, ma ne stavo ben lontano. I mediatori, insomma, spesso e volentieri possono rovinare le cose, possono immettersi in mezzo nel rapporto fra medico e paziente, fra terapeuta e paziente, nel senso più ampio. Ma è speciale Rigenera Life. Mi ha fatto cambiare idea. Se consiglierei Rigenera Life ai miei colleghi, certo, ma lo consiglierei, sì, a coloro i quali già hanno avviato percorsi, diciamo, diversi, ma lo consiglierei a maggior ragione a coloro i quali non hanno ancora, diciamo, tolto. I paraocchi mi vengono in mente, non è simpatico dire, però, insomma, io ho avuto i paraocchi per tanto tempo, quindi chi li toglie prima, chi li toglie dopo. Se i miei vecchi pazienti mi ritrovano più facilmente, ma il punto, diciamo, sì, certo, perché poi alla fine si diffonde un po' la voce, comunque ti vengono a guardare, ma quelli che sono attualmente in cura o che hanno finito le cure da poco, e comunque piace alle persone vedere qualcuno che conosci direttamente, vedere che fa una relazione, che parla, che è su una piattaforma. È umano, e mi è successo anche a me, come paziente di altri terapeuti, vedere il mio, colui il quale mi ha curato, al cui ho affidato comunque la mia persona, vederlo in una situazione dove si esprime, parla, e con entusiasmo, con passione, e me lo fa vedere anche con altri occhi, e ti piace rivederla, e ti va di tornarci per dirgli anche, ti ho visto, sai, stavi lì, ma guarda, hai parlato proprio bene.